La Cattedrale di San Nicola a Nicosia ha ospitato l'attesa presentazione del documentario sul culto del Padre della Provvidenza, il celebre Cristo in croce, opera del XVII secolo che ogni anno viene portato in processione il Venerdì Santo per le vie della città. La rappresentazione di questo particolare Cristo morente che prende il nome di Padre della Provvidenza è ospitato proprio presso la Cattedrale di San Nicola. Questo documentario ha raccontato con dovizia di particolare il culto e la devozione a cui sono legati i fedeli nicosiani. La regia del documentario è stata curata da Deborah Leonardi, le riprese molto belle e suggestive accompagnate da testimonianze anche toccanti dai fedeli sono state curate da Adriano Lablunda, Salvatore Buttice, Andrea Bentivegna, Salvatore Leonardi e Dario Stefani. La post-produzione è stata curata da Adriano Lablunda di non solo video. Il risultato è stato davvero sorprendente, immagini curate con una splendida fotografia che ha saputo dare valore all'intera processione e dal significato profondo del culto del Padre della Provvidenza. Sono state però le testimonianze dei devoti che hanno arricchito di significato questo documentario facendo comprendere la profonda fede di un'intera cittadinanza. Alla fine della proiezione sono intervenuti con alcuni interventi la regista Deborah Leonardi che ha raccontato come si è arrivata alla realizzazione del documentario nato durante le riprese di un altro corto girato a Nicosia e incentrato sulla processione del Padre della Provvidenza, un amato funerale. Sono intervenuti anche il professore Casalotto, tra i più fedeli devoti del Padre della Provvidenza e tra i protagonisti del documentario insieme ad un altro dei protagonisti della processione, Salvatore Catania. Ed alla fine ha concluso la serata Padre Santino Paternò, parroco della cattedrale che più volte è apparso nel documentario testimoniando la fede di Nicosiani e che si è messo a disposizione della troupe per la realizzazione di questa opera. Grazie a tutti.